Salve a tutti, sono Domenico Ingenito per il premio Leo De Berardinis, per questa seconda fase presento un mio progetto che si chiama Gelo. Gelo è un testo che ho scritto all'età di 18 anni, è stato per me importante recuperare questo testo che non era mai andato in scena perché in qualche modo mi ha portato ad interrogarmi sulla mia vocazione teatrale, questa vocazione che è stata così messa in crisi dal tempo presente che tutti abbiamo vissuto. Il testo ha un cuore principale, un cuore bursante, vuole indagare come cambia la malattia, la vita di determinati personaggi che agiscono nel testo ed è stato per me molto interessante riuscire a vedere e in qualche modo a sondare questa questione anche da un punto di vista teatrale. ovviamente in questo momento per me significa stare in un premio come questo, significa avere una posizione di grande lusso e vantaggio rispetto agli altri e questo è un lusso che mi rende certo orgoglioso ma nello stesso tempo mi deve rendere molto più responsabile rispetto all'azione teatrale e spero di portarla a termine nella maniera migliore possibile. Alla prossima! Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti